25 novembre 2009, viva Massimia! Sono tantissimi tifosi arrivati dalla Francia, sono tutti là nel terzo anello, c'è un po' di nebbia, non si vede, il sito al terzo anello è pieno di tifosi marsiglietti, tutto va completamente dietro. Sì, sì, sì! Vediamo cosa si sta ascoltando, la sonata è ubrida, ma ancora un po' di nebbia. Ciao, ciao, ciao! Ciao a tutti! Ciao! 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 Ciao!